Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno signora, Maria Montessori. C'è per l'enfant. Voi prendete l'enfant come ça? C'è voi che vous en occupe? Non. C'è un istituto pedagogico ici, non un orferino. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Tu peux prendre là alors? Non, non, non. È un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. È una peltina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Ma sai che non è possibile? Perderei la mia reputazione. Non, tu sei un uomo, nessuno agirebbe. Dij, je? J'ai inventé une méthode? No. Si? Raconte une histoire. Je veux rivoluzionare l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, eh? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut Bert, non rien de spécifique à l'éducation des idées. Blu. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra Per conquistare i diritti del bambino. Per conquistare i diritti del bambino.